Il matrimonio è l'unico istituto pensabile che realizzi effettivamente l'eguaglianza delle coppie, perché se ci fate caso in una realtà come quella italiana in cui c'è il matrimonio religioso, il matrimonio civile per le persone eterosessuali, non c'è un istituto che diversifichi il modo di essere famiglia, che si chiami PAX, che si chiami Unione Civile, l'unione di fatto che si chiami in un altro modo, le persone gay o lesbiche hanno una sola modalità possibile per realizzare l'eguaglianza, che è esattamente quella del matrimonio, non ce ne sono altre. Ecco perché l'istituto giuridico di riferimento, la rivendicazione dei nostri diritti è una rivendicazione che non configura un diritto nuovo. Noi siamo nel percorso storico che dall'illuminismo ad oggi ha attraversato più di due secoli della storia d'Europa e che ha costruito il principio di eguaglianza, che ha avuto come testimoni di volta in volta le donne, le persone di colore, gli ebrei, le differenze religiose. Oggi tocca alle persone gay, lesbiche, anche alle persone transessuali ovviamente, e da questo punto di vista se noi crediamo che la battaglia autentica, quella per l'eguaglianza e quella anche per la laicità, senza la laicità nessuna eguaglianza è realmente concepibile, se noi crediamo in questo, allora per coerenza dobbiamo dire che l'istituto è il matrimonio. Io non credo che la società italiana sia così arretrata e lo dico perché penso che per fortuna alcune grandi battaglie, sia pure oggi ancora più straordinarie perché sembrano lontanissime nel contesto in cui viviamo, battaglia per il divorzio, battaglia per l'aborto, hanno lasciato delle orme profonde nella cultura del paese. Dopodiché io non riesco a immaginare che l'Italia sia più arretrata del Portogallo, per esempio, dal punto di vista della società civile, che il matrimonio omosessuale l'ha introdotto, non riesco a pensare che sia più arretrata di tanti altri paesi, l'Argentina, il Messico, che hanno su certi temi delle legislazioni molto avanzate, quindi la società è più viva della politica che la rappresenta. La nostra classe politica nel momento in cui demanda le gerarchie vaticane il controllo di tanta parte della cosa pubblica, della scelta sulla soluzione di tante istanze che riguardano i diritti civili, riguardano in parte la politica estera, riguardano tante questioni economiche interne, nel momento in cui lo fa dimostra la propria insufficienza. Quindi dimostra in certo senso che il progetto dell'unità, così facendo, fallisce perché noi siamo sottomessi ad uno Stato straniero che detta delle condizioni, che ha coperto dei vuoti che si sono determinati dalla fine della prima Repubblica in poi e che la classe politica ha lasciato un po' per convenienza, un po' per pavidità che venissero coperti da altri.